Assalamu alaikum, ahlambikum ala kanal Ta'alim in Lugha l'Italia, ma'akum signor Ahmed Hillel. Ciao a tutti, benvenuti al vostro canale L'insegnamento della lingua italiana, sono Ahmed Hillel. Oggi noi parleremo di una lezione molto importante, cominceremo un corso elementare di italiano per principiante, quello di una lezione molto importante, sono Altyazı M.A. 0. и kinda 1. Vizi... Tombierta 1. Seiamo attavate O finalmente siamo arrivate O finalmente siamo arrivate Che cosa andiamo a vedere? O finalmente siamo arrivati? Che cosa andiamo a vedere? Finalmente, ma'naja, a khieran, siamo arrivati, da tassi rifare, arrivare, yassil, fin, ma'na di ma'na. A che cosa andiamo a vedere? E' concludi, noi arrivati, siamo arrivati, a cosa e casa? Questa è stata a vedere? Siamo usciliare, a vedere, a vedere, per vedere. E' arrivati, noi siamo andiamo a vedere, e r потому che a vedere, potrebbe salvare la primavera. E' arrivati, abbiamo messo il caso di andare a vedere, a vedere, in cui abbiamo messo il caso di essere erano. La goi da sogerici. La guida suggerisce di andare a visitare il Duomo, il Castello e il Museo Cifico. La guida suggerisce di andare a visitare il Duomo, il Castello e il Museo Cifico. La guida suggerisce di andare a visitare il Duomo, il Castello e il Museo Cifico, il Museo Cifico e il Museo Cifico. Il dalle di andare a visitare il Duomo, il Castello e il Castello e il Museo Cifico. La pianta della città e decidiamo il percorso da seguire. La pianta della città e decidiamo il percorso da seguire. Dino, noi adesso siamo qui, nella parte superiore sulla collina. Ecco, noi adesso siamo qui, nella parte superiore sulla collina. Noi, noi adesso siamo qui, nella parte superiore sulla collina. La guida suggerisce di una collina. La guida suggerisce di una collina. E' come qui, nella parte superiore sulla collina. E' come qui, nella parte superiore sulla collina. E' come qui, nel cuore di cui si è vengetato. Quindi, la guida suggerisce di una collina. E' come qui, la collina. E' come qui, la collina. E' come qui, i è vengetati. la diciotto laBERTO il fresco la mattina la videocliette ed scan vizici la comune la videocliette l'essore la ssa la domina capito il朝 vizici la scia l'ha sua l'est hay 6 E' aperto il mattino dalle nove alle dodici e trenta e il buom'riggio dalle quindici alle diciotto. Bene, allora possiamo visitarlo con calma oggi buom'riggio e dedicarci adesso al Duomo e al Museo Civico. Bene, allora possiamo visitarlo con calma oggi buom'riggio e dedicarci adesso al Duomo e al Museo Civico. Bene, معanà, allora, إذن, possiamo visitarlo, نستطيع, nix, n'n'zorlo. Con calma, bijdu, oggi buom'riggio, il n'harda, il n'harda, l'asr. E' dedicarci adesso, o di l'uomo e al Museo Civico, visitare il Duomo qui in mezzo. Bene, allora possiamo visitarlo con calma oggi buom'riggio e dedicarci adesso al Duomo e al Museo Civico. D'accordo. Prima però devo comprare un nuovo rollino per la macchina fotografica. D'accordo. Prima però devo comprare un nuovo rollino per la macchina fotografica. T'abrho d'accordo, ma'amera, ma'amera, etterciò... Prima però, ma'amera, 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 ma'amera. c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio c'è un ufficio di informazioni conversazione parlare c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio guida 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 turistica guida turistica turismo turista turistica turistico 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 siyahi suggiriri c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio di informazioni turistiche c'è un ufficio di informazioni turistiche percorso percorso masar seguire seguire yetba parte gust zuberiore suberiore superiore superiore inferiore inferiore soffli anteriore anteriore ememi bosteriore 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 helfi vicino vicino corri Lontano, Lontano, بعيد Davanti, Davanti, amm Dietro, Dietro, خلف Accanto, Accanto, di fronti a, di fronti a, fì mwagahat Montania, Montania, gabbèl Lurario, Lurario, mawaid Apriere, Apriere, yiftah Abertura, Abertura, fath Aberto, Aberto, mafetuh Kyudere, Kyudere, yuglick Kyuzura, Kyuzura Kyuzo, Kyuzo, mafool, morla Didikare, didikare, yghassas Komprare, komprare, yibya, yishtiri Vendere, vendere, yibya Makina fotografica Makina fotografica Makina fotografica Makini, makini taswir, camera taswir Cherkiamo, Cherkiamo Yabhas Ufficio, ufficio Makina fotografica Informazioni turistiche Informazioni turistiche Sta l'amatsi jahia Ubusculo illustrativo Ubusculo illustrativo Kutaib musawak Monumenti Monumenti L'asar Non Grazie.